Non sa te è successo Marco? Sto a cascato. E ricordati, o piangere o ridere. Professore, professore, una cosa incredibile. Quest'anno la Befana è arrivata prima di Natale. Grazie, no? Perché sei triste? Io avevo una situazione diversa. Per il resto abbiamo esclusivamente parlato di monete. E poi? Se Laura ha accettato di vedermi, vuol dire che ti piaccio. L'hanno preso di mire. E' uscito di testa. Ma tu con Marco, l'amore, se lo faresti? Chi è tra voi il più bravo di italiano? Lui! E adesso immagina di accarezzare col tuo sguardo la natura. Il tempo corre troppo in fretta. E io ho voglia di aspettare. Lui e lei. L'uno di fronte all'altro. Senza parlare. Una vita ricca di passioni è una vita meravigliosa. L'uno di fronte all'altro. E io ho voglia di essere un'unico. L'unico. E' uscito di farlo. L'unico. E' uscito di farlo. E' uscito di farlo. E' uscito di farlo. Grazie a tutti